Un ulteriore passo nel cammino benedetto, gravido di speranza e da fare insieme. Così Papa Francesco ha definito l'incontro con la delegazione del direttivo della Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, avvenuto oggi in Vaticano. Ricordando la fraternità ritrovata, basata sul riconoscimento dell'unico battesimo, ha invitato a promuovere una crescita comune per servire meglio il Signore. Un percorso fatto di opere di carità e di amore misericordioso, vero antidodo di fronte al senso di smarrimento e all'indifferenza che sembrano circondarci. Oggi, evidenziato il Papa, sperimentiamo spesso una desertificazione spirituale, in particolare quando si vive come se Dio non esistesse. Proprio lì le comunità sono chiamate ad essere anfore che dissetano con la speranza ad essere presenze in grado di ispirare fraternità, incontro, solidarietà, amore, comunità aperte alla missione. Non è possibile, aggiunto, comunicare la fede vivendola in maniera isolata o in gruppi chiusi e separati, nel consumismo spirituale che rischia di ingannare l'uomo con proposte che non rispondono alla sete di Dio. Pertanto, l'esortazione del Papa è quella di vivere un ecumenismo che promuova una comune missione di evangelizzazione e di servizio per trasmettere l'amore misericordioso del Padre.